Anche da questo lato della muraglia ho dei capperi, ok, c'è uno qui, uno là e uno qua sotto, ok, poi ce li ho qui, due qui, fanno cinque, poi naturalmente io qui dovrei vedere, però piano piano, una volta che riempiono qui poi taglierò, poi ne ho uno qui e uno qui. Sono sette, devo togliere questi qui perché se no poi cos'è che succede? Poi non li fanno prendere il sole queste qua, devo stare attento però per non tirarle fuori tutte perché, ok, abbiamo detto sette, qui niente, neanche qui, e poi ne ho otto e nove. E dieci, e undici. Dunque qua poi mi riempiono, vengono giù, qui siamo alla fine, perfetto. Poi qua, dopo, qua li metterò, piano piano quando si riempiono, bellissimo. Allora, ricapitolando, uno, due, vabbè, che di sono due però, probabilmente sono anche di più, però teniamo conto di uno. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Perfetto, perfetto. See you next time.